Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, ed ha scosso profondamente i tanti fan della cantante che da anni avevano imparato ad apprezzarla. Come riportato da il messaggero.it e riferito dall'ufficio stampa dell'artista, ha perso la vita questa mattina in seguito a un infarto nella sua casa di San Paolo. Il mondo della musica, dunque, perde all'età di 77 anni la popolare cantante brasiliana Gal Costa. La sua voce e la sua musica sono legati in modo indissolubile al Brasile e al tropicalismo. L'abbiamo vista al fianco di Pippo Baudo nella 58esima edizione del Festival di Sanremo. A dare il triste annuncio della scomparsa della nota cantante brasiliana è stato il Team Gal. Ha comunicato con profonda tristezza e con il cuore stretto la scomparsa della cantante, sottolineando come informazioni sulla veglia e sulla sepoltura saranno divulgate in un secondo momento. Mioramento Grazie a tutti.